Caporale, due squilli di tromba! Eccolo! Ho detto, due squilli di tromba! Ma insomma, cos'è questa tromba? Me l'hanno tappata col catrame! E tu soffia, così si stappa! Ma mi soffianca troppo, ostia! Tant'è vero che mi sono stappato io? Porco boia! Maresciallo, questi due devono passare la visita conclusiva! Eh, un poco di pazienza! Il medico civile è occupato! Va bene, allora aspettate qui nel corribbio! Maresciallo! E che? Devi passare la visita conclusiva anche tu! Ma che ne so se...